Musica Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della Zercocraft Vi faccio vedere che la Redstone ce l'avevo qui Non è molta però Ci basta per quello che vogliamo fare Quindi ce la buttiamo qui dentro Che cacchio è? Si è intassato tutto di carbonella Dobbiamo fare un altro slot di carbonella Immediatamente, immediatamente Diamo spazio alla carbonella che mi sta intassando tutto Vai ce la butto qui E il Polymorphing Vi faccio vedere in automatico Trasporterà tutta la carbonella qui dentro Eccola qui, vedete come arriva? Così non ci intasa tutto Perché se si intasa questa cesta qui Mi blocca tutto il sistema Ma penso che sia anche... Com'è che la Redstone nemmeno va? Non ha un suo slot? Mi sembra di averglielo messo una volta Vai ce la buttiamo qui Dobbiamo farci anche un'altra cesta Per queste cose qui Che ci fa E' lo Slurge Lo Slurge Bowler produce questa roba Pit Magari ce la buttiamo qui dentro E anche questa Ok Dobbiamo liberare un po' questa cesta Troppo incasinata di roba Da qui Allora l'Invar L'Electrum Poi il Pulverizer Possiamo mettere l'altra parte Le Mele Il Sulfur Redstone adesso li mettiamo Allora il Sulfur Abbiamo detto Il Sale I Brick di Netherrack Ci diamo una posizione Allora dove sta Il Netherrack Qui sta Buttiamo nel Nether Qui pure la buttiamo qui L'Invar Le varie cose ce le buttiamo qui Dove sta nei vari blocchi Sulfur Sulfur E Salat Boom Ce le buttiamo qui E le mele Le mele Le mele Vai qui dentro Deve stare poi anche la legna E la rubber vai Andranno a finire qui Ci buttiamo anche questi vai Ci liberiamo un po' la cesta Il Pulverizer Lo buttiamo qui In una cesta Diciamo dei macchinari E E finiamo di costruire Il nostro Magma Allora Andiamoci La nostra Redstone Block Ah si Dobbiamo fare questo Ok questo ce lo mettiamo qui Lead ci serve Lead Non lo riconosce questo tipo qua Non so perché Perché questo è di Dell'Industria Craft 2 Mentre questo qui È dalla Thermal Expansion Quindi noi Basta che l'andremo a modificare Così ci farà Ah beh Facciamo una richiesta Ok Eccolo qua Andiamo a buttare anche questo qui dentro Copper non ce li richiede Perché questi sono diversi Però a noi vanno più che bene Allora facciamo così Modifichiamo questi due copper Lead ci sono qui Il machine frame Ci richiediamo il resto Redstone Receptical Vai Un machine frame Vai Un nether prick Vai Due copper Vediamo se ce li richiede Non ho capito perché fa questo Richiesta Ma abbiamo tutto Vabbè Se ci manca qualcosa Non ci prende niente Ok abbiamo il nostro magma Crucible Adesso dobbiamo fare Fluid Transposer Ah dobbiamo fare le stesse cose Di prima Quindi questa Noi dobbiamo fare un'altra Allora ok Copper Le abbiamo Machine frame Le abbiamo Il bucket Facciamoci un bucket Perché sembra che non ne abbiamo uno Ok Abbiamo tutto Allora bucket Due di questi Un machine frame Uno di questo Fluid Transposer Ce lo deve Graffatare Due copper gear Tutto l'ho messo i copper gear Che vuoi Non me ne riconosce Modifichiamo La ricetta Adesso ce lo deve dare Eccolo qua Fluid Transposer Mag Macro A cosa serviranno Questi Molto semplicemente Prima per fare Quando avremo Delle ender Per Ci Faranno Serviranno per fare Li Come si chiamano I Tesseract Poi adesso Dovremmo Fare i cavetti Più potenti Questi qua Questi cavi Un po' più potenti Che trasportano Molto più energia Allora io direi Di metterli Qua Sì Mettiamoli qua Scaviamo un po' Abbiamo il nostro I nostri cavi Così Vabbè Possiamo mettere anche qua Così In questo modo Sì Allora Magma Crucible Cioè Fluid Trasposer Magma Crucible Ok Si caricano Bene Allora Noi mettiamo Che quello che noi sciogliamo Andrà a finire a sinistra Lui riceve da destra Quindi blu a destra E magari Il restante Vabbè Questo possiamo anche togliere Tanto non ci interessa Rimarrà qua Allora 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 Per fare i nostri cavi Più Più Che trasportano Più Più Questi qui Che noi abbiamo Trasportano solo 400 RFU Questi qua Per fare questi Bisogna Prima di tutto Quali sono Questi Quelli che abbiamo noi Giusto Sì Per fare questi Ecco Dobbiamo Prima farci Costruire questi Che si fa Con Heartglass Ah Quindi ci serve Ci serve Un Alloy Smelter Uno Alloy Smelter Sì Ci serve Uno di questi Che non abbiamo Dobbiamo Craftarci Anche questo Comunque Dobbiamo Prima Fare questi Qua E poi Riempirli Con il magma Crucible Qui all'interno Sciogliendo La redstone Che andrà a finire Il magma Crucible E il magma Crucible Riempirà Quelle Quelle cose Di redstone Quindi Adesso Ci andremo Anche a craftare Un alloy Smelter Che andremo Ad applicare Sempre là vicino E poi Dovremmo Trovarci Del quart Nether quart Infatti Ne abbiamo Solo 12 Magari Riattiveremo Il query Che sta nel Nether E vedremo Un po' Come fare Allora Machine frame Che sicuramente Ci servirà Come mettete Allora Alloy Alloy Smelter Questo è Dell'ender Io Mi ricordo Che si faceva Anche non solo Con L'alloy Smelter Pure con un altro Aspetta Allora Questi qua Si chiamano Energy Conduit Energy Conduit Eccoli qua Allora Questo qui Ma si fa solo Con l'alloy Smelter Strano Perché mi ricordavo Che si faceva pure Con Con L'ossidiana Polverizzata Il glass Nel Ah Fammi vedere No Alloy Smelter Quindi Vabbè Non ci perdiamo Danno Però Fa solo Lender Io Come si fa Questo Vediamo E' un Macello E' un Macello Assurdo Copper Ringot Questo volendo Penso che lo potremmo fare Ci manca Ci manca Un Copper Ringot Dice Ma noi Il copper Ce l'abbiamo Eccolo qui Sempre perché Non lo riconosce Quindi Lo richiediamo Andiamo Andiamo a sostituire E dovremmo Avere tutto Ok Abbiamo il nostro Basic Capacitator Machine Cassis Questo si Ce lo possiamo fare Tranquillamente Ah ci manca L'aereo Non un bus Allora Premiamo R Qui Facciamo Una Però se non sbaglio Io ce l'ho Perché ho fatto Le trappole Che servivano Proprio le Infatti Ne ho 10 Ricordavo bene Allora mettiamo Mettiamo 10 Qui Prendiamo indietro Mettiamo questo Possiamo anche già fare Ottimo Poi Stone bricks No Le stone bricks Normale Poi a questo punto Scusami No Il mussi Ah Queste Quattro Le Le abbiamo Sì Le abbiamo fatte Prima Adesso Dobbiamo Solo Trasformare Cambiare la ricetta Questo copper Normale Basic Ce l'ho tutti qua Ma perché Allora Senti Scusi Copper Dammi quattro copper 3 4 Devo fare tutto manualmente E me lo dovrebbe craftare Ma non me lo fa Allora Questo Va qua Ah Mi ci manca la furnace Una di questa Eccolo qui Abbiamo il nostro Alloy smelter Che va sempre caricato Quindi ci serve D'energia Voglio portarmi Delle energia Qui sopra Adesso basta O almeno qui Che ne so Da qualche parte Qua Eccola qui Ce l'abbiamo Ah Lo metto qui Ok Si caricato Si sta caricando Si sta caricando Ne abbiamo giusto 12 Quando ne mettiamo a fare Ma Non tutto è 12 Che potasse Che ci servirà 6 Mettiamone 6 Un cacchio 4 Se ne è preso Se ne è mangiato i 4 Ok Per darcene uno Oh mio dio Servono 4 Nether Quartz Per farci un blocco Di Fused Quartz E vi rendete conto Quanto Quanto Nether Quartz Ci serve Un botto Vediamo Quando ne riusciamo A craftare Di così Allora Energy 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 Questi qua Electrum Ce l'abbiamo Electrum Ah ce ne fa 6 Allora Quindi 2 4 C'è una richiesta di 4 Quindi ne avremo 12 Infatti 12 di questi Poi Serve della Redstone Abbiamo un K 32 Non so quanto Ne serve Per riempire Però 32 Mi sa No non basta Per riempire tutte 16 Non credo proprio Allora Mettiamo la nostra Redstone Qui Che si fa Liquefatte Automaticamente Va a riempire Vedete Questa parte qui E poi qui Noi metteremo I nostri Redstone Conduit E che ce li riempie Diretti Questi qua Trasportano 1000 RF Per tick C'è un botto Di energia 9 10 Mi sa che Abbiamo messo Troppo a Redstone Vediamo Vediamo 12 Qui Wow Precisi Precisi Giusto in tempo Per fare tutto Abbiamo queste nostre 12 Energy Conduit Che non si collegano a queste qua Giustamente Perché hanno Una portata differente Ma sono estremamente migliori Allora Questo quarzo Lo buttiamo qui Dove sta il conto del Nether Qua Ma sicuro che ho solo quello Non è che ce l'ho già Potemi vedere Guarda Sì Solo quello Infatti me ne porto a tre Cerchius qua Se no Se lo polverizzo Mi da questo qui Niente da fare Ho solo questo qui La nostra farm di alberi Come sta andando? Alla grande Ragazzi Sta andando alla grande Vi faccio vedere subito Farm di alberi Guardate come funziona Quanto carbone asporto Botto Vabbè Viene subito estratto Quindi non lo vedremo Però ci sono altri macchinari Per produrre energia Oltre a questo Del tipo C'è il Culinary Generator Culinary Con la Y Con la I No con la I Eccolo qua Questo qua Pure Fa un botto di energia Però All'interno Dovrei andare Delle patate cotte Tipo Perché se mettete La patata cruda O la 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 carota Cruda Così Fa meno energia Mentre con la patata cotta Fa molta più energia E Rispetto a quanto consuma Una Red San Furnace Per cuocere una patata Il valore È Quasi triplicato Delle energie Che produce Poi Il culinary Generator Allora Il query Dove lo posizioneremo Dove lo andremo a mettere Quasi quasi Io farei Tipo Uno Scantinato Qui sotto Un buco Un qualcosa Posizionerei Il query Che scaverebbe Qua sotto Magari Ci troveremo Poi un buco Sotto Questa Postazione Ma a noi Non ce ne importa La cippa Noto che prenderemo L'energia da qui E anche L'ender chest L'ender chest Va bene Anche sempre Questa Sì Dobbiamo fare Questo lavoro Quindi Nel prossimo episodio Non so che l'ho detta Anche nell'episodio Scorso Ma pensavo di aver finito La redstone Ma è quasi finita Però Ci serve del quarzo Quindi andremo anche Ad azionare Il query Nel nether Ci vediamo Al prossimo episodio Con il piazzamento Dei vari Query Quindi Da zerk è tutto Ci vediamo Al prossimo video Lo so Forse questo episodio È stato un po' Non abbiamo fatto Nessun progress Ma purtroppo Il tempo Scarseggia E Ci vediamo Con un altro Magari È vero Se metto il query Che cacchio è Magari Li metto in Li metterò io Da parte Cioè nel senso Non registrerò Quando posiziono il query Magari Registrerò Quando faremo Un altro impiantino Un bel impiantino Un qualcosa di carino Come abbiamo fatto Con questo Perché vorrei Spostare Quella zona Che abbiamo fatto Noi per lo smistamento Dei materiali E tutto Da un'altra parte Tutta questa Troppa qui sotto Tutte queste ceste Io vorrei Spostare da un'altra parte Però prima di cosa Dobbiamo Avere delle Enderpare Perché dobbiamo fare Dei Tesseract Sì Assolutamente Dobbiamo fare Dei Tesseract Quindi magari Faremo una Una mob farm Sì Vai Il prossimo episodio È un mob farm Però prima vado Ad attivare i query Quindi ci vediamo Nel prossimo episodio Io vi ringrazio Per la visione Vi invito come sempre A iscrivervi al canale E alla pagina facebook Ovviamente Da Zerch è tutto Io dormo Al prossimo video Ciao ragazzi